Amici di Cavallo Magazine ci troviamo nel padiglione 6 in uno degli stand più presi d'assalto possiamo dire da Embriches, ci troviamo con Antonio Musciotto, CEO proprio di Embriches, è uno degli stand più amati dai ragazzi, tante le novità che avete portato anche quest'anno, ce ne parli? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo prodotto un nuovo pantalone visto l'esigenza del nord Italia ma anche dell'estero con il pile interno adatto alle temperature più fredde, per la prima volta abbiamo prodotto un softshell, novità anche questa di quest'anno, nonché tantissime colorazioni nuove e match perfetti con maglie e accessori, quindi possiamo essere più che contenti di questa prima giornata e speriamo che anche il pubblico apprezzi. Il vostro come dicevo è uno degli stand più amati anche perché avete un gruppo di ragazzi, il Dream Team sempre molto attivo? Assolutamente, quest'anno abbiamo esteso ancora di più il Dream Team, abbiamo 23 persone all'attivo qua dentro, c'è anche Pernilla che ora ci viene a trovare sicuramente e cercheremo di espandere quanto più possibile perché pensiamo che le ragazze siano il cuore pulsante di questo nostro lavoro e di Embriches. Dato che parliamo di moda, qual è se possiamo dirlo il colore che andrà di moda nell'equitazione per il prossimo anno? Allora, l'anno prossimo, qua dovrebbe venire la nostra designer a parlarne ma credo che non sia molto partecipe oggi, ad ogni modo penso che potrebbe essere un colore scuro e non pastello poiché il pastello è già andato quest'anno, quindi non vogliamo forse svelare tanto, non vogliamo nemmeno dire... Ma possiamo invitare le persone a venire a scoprire? Assolutamente, possiamo invitare le persone a venire a scoprire la collezione attuale e tutto quello che verrà qui al nostro stand, assolutamente.